Ciao a tutti, sono Deborah Iurato e da poco è uscito il mio nuovo singolo Voglia di gridare. È nato con l'idea di regalare un po' di spensieratezza e di felicità in questo periodo un po' particolare e assurdo che stiamo vivendo. Lo potete ascoltare su tutte le piattaforme digitali. Nel frattempo io vi auguro buone feste, vi abbraccio virtualmente e speriamo e sono sicura che ci vedremo presto. Ciao!